Bella ragazzi, qui Itachi Sono ancora su Windows Nooo, si, sono ancora su Windows Su Windows per fare un gameplay Perché non ho trovato una valida alternativa a Fraps Anzi, ho trovato una valida alternativa Ma non sono capace di usarlo Perché Anzi, non mi interessa capire Fraps fa bellissimo Però È veramente una palla Dobbiamo usare Fraps Spero di aver sentato Delle impostazioni in modo tale che Sciate a sentirmi in vecchia Sennò è un po' merito Perché io registro i live con Fraps Perché Mi piace La scambiente Mi riesco Vabbè, spero in bene Questo è un server chiamato Apocalittico Ci sono una marea di roba Oh, caballo, caballo, caballo Allora Ok C'è Perché vi succede la vicenda? Oh Ciao bello Ciao bello Beccati una bella palla di plasma Ma bravo Ma bravo Ma bravo Allora se vedi Dalla kill all'altro Ma porca Ma porca Ma what the fuck Perché io sono un idiota Cioè avevo il cecchino E se quello lì Usa il cecchino Io posso usare contro di lui Un altro cecchino Come? Si può fare Si può fare Vediamo Se perché non arrivi l'altro cecchino Perché se no mi fotte Me lo mette in tuulo Come avete ben capito Io sono Una merda nei giochi di guerra Ma Sono ancora più merdoso Nei giochi di guerra In cui il computer lagga Si perché noi abbiamo Una connessione di All'interno che parte Ma dove Trattola era Trattola era Ok Allora Siamo qui Bene Mi hanno capito Oh oh Sweet Fuck no fuck no food Get away get away get away Get away Go away Andiamo via Un bello Spomparito Il fucile La pompa Con il mio lagga Fantasica E' finito Di conseguenza Mi ha registrato Mi devo registrare Su un'altra C'è 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 Allora Mi ha iniziato con il check-in Nella plazzo Facciamo il shreddor Questo è mi c'è Ma no no Questo è mi c'è Ma tutto smiato Questo qua c'è Qua c'è chi è tutto Spiato Opla Dunque Zoccoletti 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 Quando mi faccio scappare Beh se sono in movimento Ho sentito che il colpo Non vado dritto Ma sta vero No Ma Oh E' vero C'è quella fantastica Cosa chiamata Log Slug Ok Vediamo No 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 Opla Tudu E' ucciso qua E' riappare qua Lol Because Change Happens Tudu Tudu È una lotta Continua contro il lag Passa al lato oscuro Della connessione Passa al lato oscuro No Mi ha ucciso No Ma come E' voglia camperare In una maniera Spaventosa Come ha fatto ad uccidermi Boh Com'è da chiedersi Tudu Oh Le granate Dovete capire che In questo In questo Server moddato Le granate Sono una roba Fantastica Lol Vula Vula E fai l'esplosione So Lol 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 No 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 Ok No Non voglio cadere nel vuoto Va bene Cado nel vuoto Pensavo di poter volare Sì Se ho un jetpack Che fa cagare la minchia Ci credo che Pense di poter volare Però Non posso Alta cosa Ok Dai 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 Dov'è Dov'è No Melanciulata Stronzi di merda Alla cazzo Alla khbarr Oh che mi ha lanciato no 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 oh oh epic win sono ancora vivo si comprare non è una merda eps va bene ma effettivamente poi mi cambio le armi io vado là intanto se devo far cagare non devo far cagare oppa oppa oh oh no 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 sii ma pii fermo oh bravo c'è oh cazzo na 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 ok va bene va bene va bene va bene va bene va bene oh oh spada spada è illogico però è bellissimo sicuramente si dai 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 Sì, e qui c'è qua un... che rompe la schienaria. Ma c'è anche uno del bot! Minchia che culo! Ma effettivamente... è morto! Oh! Lancia fiamme! No! Come ho fatto? E mi ha fatto anche colpo alla testa. Vediamo... 4-5. Sadness. Di cui, nota bene... tutte le mie kill. Possiamo fare così. Proviamo così. Dov'è? 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 Rocket launcher! E voliamo via! E adesso con il mio bellissimo rocket launcher! Rocket launcher! Ripeso direttamente. DOOM! Double kill! E ogni gioco ha delle possibilità. C'è una buona percentuale che tu lo backi, e una buona percentuale che tu lo backi. Se tu hai culo... Ops, là! C'è il cecchino di là? Ma com'è fatto? Vediamo. Pink 212. Forse questa può essere risposta. Che è una connessione di merda rispetto a chiunque altro. No! Il mio shredder! Bastardi! Avevo acceso il mio shreddi! Se non si fosse capito era una ripresa da... Eeeh... Come è che si chiama? Ah, altra cosa simpatica. Questo... LOL! Com'è che era? Hanno ucciso Kenny! Dai! È semplice! Eeeh... Eeeh... South Park, eccolo! Mi è venuta in mente! Sette minuti di partita? Sì, quanto sto facendo? 6-7. Sperai mi inventa. Allora, se no potrei mettere... No. Era F6. Mi chiamo il mio bellissimo shreddi. Ma ho anche una bella il plasma. Ficcio un bel submit. Perché il mio bellissimo shreddi ha una cosa fantastica. Vedete questo colpo? Il col tasto destro spara questo colpo. Che è una specie di bomba esplosiva. Che aspetta solamente di... Beccare... Porca! VTF! 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 Dove? Dove sei? Dove sei? Intanto mi prendo anche ragazzi. Opla! Plaplaplaplapla! Ma dai! Ma dai! Ma fammi rientrare e fare qualcosa! No. No, non sono così! Non sono gente da conto! Ok, lo sai una cosa? Lo sai una cosa? Mi hai rotto! Tieni! Ti regalo un oggetto! Che è una bella canata! LOL! LOL! Vabbè, basta! E come già detto, questa cosa, inoltre, ha la possibilità di far volare via in due 90 secondi. Oh! Perché shreddi can! E' un attacco e fuggi! Perché si cammina così in giro! Sììì! Si! Si cammina! E se si riesce? No! No, 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 no! Sì! È utile anche per tornare a terra! C'ho scelenti! Carichiamo! Pistolina! Che pistolina! Spadina! Tagli nel vuoto! No, 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 no! Tu non mi hai visto! È uno scherzone! Oh! 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 Double kill! Perché... Perché... F***! F***! Ci siamo! Oh! Ok, ok! Carichiamo il rifle! Ragazzi, ovviamente da un periodo di attività lunghissima che non facevo un gameplay! Sono combos! Se non lo prendi tu, lo prendo io! Sì! Sì! Un muovete! Fuoco! Bruciate!!! Come vedete il fernoù! Bruciate!!!! Bruciaa restoration! Scateniamo il ferno! io sono, come avete ben capito sono un cazzone siii cazzone siii morite qua sa uoco dell'epoca uoco purificatore oddio mi sto bucciando anche io c'è il mio siii nooo l'ha rubato il mio amico ok la chiamo dove? 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 ma come fa? ma come fa dico c'è il potere di uccidermi in qualsiasi vuoi ma no ma dai ma dai ma dai ma io arrivo lì così bello tranquillo tutto bello così puccioso dico si adesso ritorno al rapporto ci siamo i morti un uomo e poi quello lì mi uccide e poi quello lì mi uccide SPRINKLEBERK comunque bisogna dare una bella infuocata aia mi sto bruciando non ci sono voi non mi vedete io non ci sono io in realtà non ci sono poi in realtà ci sono però tu hai sempre non lo invasivo non lo invasivo vanno i giorni 57 no no ti sono Nooo, io non volevo solo suicidarmi, volevo portare... Io c'ho paura che con la stranza di prima, come già detto... Perché se quello mi viene, mi è sorprenduto. Quel killer di bla bla bla, quello che ha il titolo killer del nome... Nooo, uno... Black Sky. Se ti cito pure non commetto, va bene. Minchia, quanto sei idiota. Il bello è che io mi faccio le seghe mentali tipo... Sì, ma dovrei fare dei discorsi intelligenti. E' bello che faccio anche dei discorsi intelligenti a volte. E poi... Così, nei commentari... Tu! Perché sei lì sopra? Aaaaaaah! Venite qua! Mi ha fatto pure la risata mal faccia. Sto bastardo! Non è quello? Nooo! Ma dai! Ok. Ok. Ciao, Marcio. Io devo... Finire di studiare. Come? Non studi, sì. Continuo a studiare, non so perché... Sono un liceale perverso che ho deciso di sto... Oh bella, questa mappa ha una buona costruzione per cecchinare. Vediamo se mi ricordo dov'è. Qua. Ci sono già arrivato, che contentazzo! Vieni qua. Molto. Che bello anche la roccia. Ciao roccia! Vediamo. C'è qualcuno? Uno. Poi... Poi ho caga. Opla. Molto. Opla. Perché poi con la connessione che lagga è molto difficile capire e immaginare dove vadano a posizionarsi. No, me l'ha già ucciso qualcuno. Ok. Va bene, va bene, va bene. Tu! 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 ha capito davvero. Sforzionate la mente! Mi ha capito davvero! Un momento... Non è tanto bello. Ma il fatto è che io ho questo... Ok, vediamo. Capiamo dove sono gli altri. Oh, io ce n'è uno. Più o meno. Il bello è che se riesco a vedere dove sono... è una roba fantasmagorica, perché faccio delle kill fantastiche. Non solo che non li vedo, quindi niente. Vai, andate nella vasca aperta, miei prodi. Sì, l'ho anche beccato. Maledetto, ma che merda! Se non metto! Se non metto! Se non metto! Se non metto! E poi così si spostano in due centimetri quadrati e noi faccio un cazzo. Ma vaffanculo, va! C'è qualcuno? C'è nessuno? Sì, sono uno che campera. Non l'avreste mai detto, eh. Allora, o campero o faccio il cazzone. Non ci sono tante possibilità. Beh, questa è un attimo possibilità per dare una cosa simpatica. C'è qualcuno? BOMBBE NOTANE! Lool! Vole la bomba! Vole anche te! Nooo! Mi ha visto! Non l'avreste mai detto, eh. Io soprattutto non avrei mai detto che mi ha visto. Non so da cosa avrei potuto dirlo. Forse il fatto che mi ha svegliato, non lo so, tipo un razzo addosso. Nooo! Perchè ero qui bello posizionato? Ci sono i miei resti. Notare bene. Allora... Allora... Uno. Ci metto molto di meno. Ok, la prossima volta. Dov'è? Dov'è? Ma va... 5-5! Ma dovevo anche avere un ratio positivo. Oh, cazzo. Va bene. Ultima vita e me ne vado. Ma PERCHE MI LASCIATE LEVAR MI VODE?! Ma come fatti? Non è quello là sopra. Ah no, deve esserci qualcuno qua sotto. A meno che... Ma è vero, era l'ultima vita. Vabbè, questa è l'ultima. Ottimissima, seriamente. Quindi faccio il cazzo. Prendi la plasma... La pistolina, il plasma. No, 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 no. Non ti bloccare. Bravo, bello. Bravo, bello. Oh, oh! Rocket launcher? Oh, di qua. C'è anche la... C'è anche la... Sì, però... BOOM! LOL, LOL, LOL. Ho ucciso uno. Ok, questa è la fine del gameplay. Avete visto quanto faccio cagare. E soprattutto quanto faccio cagare giocando online. Bella ragazzi, vi saluto. Ciao, ciao! 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 Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! 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 Ciao!